Conosceremo Vorremmo anche ringraziare con un grande applauso l'autorevole giuria che è qui presente presieduta da Luciano Pignataro Ed ancora abbiamo la dottoressa Eleonora Cozzella direttrice del Gusto di Repubblica vorrei che vi alzaste così vi conoscono meglio Eccola qui Poi abbiamo direttrice qui la pizzeria di Gambero Rosso ed è Pina Sozio Eccola Ed ancora per la cucina italiana Giata Bellegotti E poi ancora Mangia e bevi Nadia Taglia la Tela Eccola qui davanti a me Giornalista Mio grande amico Giuseppe Giorgio del Quotitano di Roma Eccolo lì in fondo E poi identità golose con Carlo Passera Grande chef Stella Michelin Peppe Guida E poi l'avete conosciuto prima Il nipote del grande Luigi della Mura Luigi della Mura E questa è la nostra autorevole giuria Che poi nel corso della nostra gara Chiederemo dei pareri Riguardo anche la votazione che verrà espressa da loro stessi Il primo gruppo, il primo pizzaiolo che tra poco Conosceremo è di Equa Al centro c'è un microfono Naturalmente verrà descritta la sua pizza E i nostri giurati sapranno quali sono gli ingredienti che sono stati utilizzati Per la realizzazione di questa pizza Voglio anche ringraziare gli amici presenti I giornalisti autorevoli Tra questi Brunella Cimadomo Che è qui Che ha seguito la prima edizione La prima edizione di Il trofeo Luigi della Mura Eravamo insieme Io, Brunella Il povero E compianto Sergio Vicu Che ricorderemo in questa In questa tre giorni E naturalmente Era presente anche il Il figlio Il figlio di Luigi della Mura Mario della Mura Era un quartetto Eccolo qui L'applauso per Equa A Equa Bene Allora Tu c'hai un microfono